Ragazzi, io odio il bowling. Lever odia il bowling perché siamo qui. È vicino a casa di leo Intorno siamo di qui e allora facciamo un video al bowling. Sì, ma non ci sono le palle per bambini. Io come faccio a tirare? Pesa quella. Pesa troppo papà. Ma pesa c'è anche lì. È troppo per me. Guarda che manine delicate Non posso non ripassare la linea. Qua le linee. Era l'arancio del peso, vero la sfida? Esatto È uno sport impossibile Baccino al pubblico Signori, momento più atteso. Fred Lever Cosa? Ancora lui, magnifico Spazio, spazio Perché quando l'ho fatto ieri a culo e quando lo fa lui tutti lo vedono? Guarda, guarda la sua, rispondi Poteva andare peggio Poteva andare peggio Oh, la mia Oh, la mia Il trick Il trick Il giro A me sembrava un'idea Si, sei pronto? Roberto Carlos del Puehling Sì, sì Signori, moderatore di Twitch Italia Eccomi Ma il gnocino della nonna Tocca a Scud Ho una nuova tecnica Ancora Come voleva si dimostrare Gran buca A golf sarebbe stato un tiro A golf Mancava la potenza Sì, mancava la cattiveria agonistica Credo che con i tiri di Erika arriva alla palla Si appoggia i pirigli e torna indietro Scalto Non ce la farò mai Anni anni di Minecraft Le hanno forgiato questo Bella Stai Diro importante Buca Strano La prossima volta Conferma risultato Mi fanno 17 Ollè Secondo strike Dove bisogna pensare meno a questo gioco Parca puttana Oh Capito che bella gioco Ragazzi Da Volta di avvio Mi fanno più Mi fanno più E rimane uno Guardalo male Parali con la pistola Dai Mamma 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 La ho carica Parte lui Assurdo Assurdo Adesso gli darei una massima Più lunga la lancia Hai fatto metà pista in uno Più è vicino ai birilli Godlike spawn A 17 punti Andrea Pensa che quei birilli Siano dei tuoi fan Allora Erika Proviamo anche con te Pensa che quei birilli Siano delle Fan di Andrea Magnifico 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 Hai già fatto Kappa C'è questa che pesa di più Se vuoi Dove è la palla per i bambini Grappa Faccia questa Mi sembra così leggera No Stami colpello Che c***o Cosa Hai qualcosa giù Senti come il tempo E poi ti è passata la palla Ah non l'ho visto Vabbè Ti fucilava il fulgimento Kappa Stavo per distruggere Ma sai che mi piace il rischio E vedi quei birilli Sono in sconto Erika Erika non è abbastanza motivata Non sono in sconto Sono gratis Ecco questi sono i famosi cartier Che camper non ti regala Siamo in sconto Siamo in sconto Siamo in sconto Siamo in sconto E mostra a tutti Il tuo sguardo assassino Con cui è ucciso Kennedy Io sono felice Che hai puto giù un birillo Signor K L'assetto della palla È l'assetto più importante Ma perché hai il mio stino Con questo Che pesa troppo La soddisfa? Cioè è lei Vada vada Prepara la musica Ebbene quella che sale Non sono io che edito Eh vabbè Fai qualcosa Della tua vita C'è una meccanica Che mi spugge La rabbia repressa dall'asilo Quando il piccolo lever Di un metro e settanta Fu derubato dalle sue caramelle Nel 1908 Ragazzi Le regole erano scritte sbagliate Tiri così Guarda che bene Ma sì? Va bene? Lo sì hai detto? No vai Ci ho creduto un po' Cosa porti sul tuo canale tu? Merda No FIFA FIFA è con le mani o con i piedi No La posta Basta che la posta Me lo cambiano Ci cacciano Nel suo posto Te lo facciamo La sfida di casa camper 38-44 Andrea Ricorda Andrea La faccia della vittoria Se non esce adesso a battere Erika La batti quando arrivi a casa Oh sì? Oh Bempi Palla in buca Dai donti una mano Che sono esperto ormai Però le palle in buca Più a destra No ma Palla No eh Ma ti dico che ti piace il cazzo Però Cosa riguarda Erika Mi sa che vuoi le battere sul canale O non la casa Guarda là Erika può ancora vincere Cinque militi Erika Bastano cinque militi Bastano cinque Quattro parigi Adesso prendi e lanciarla Erika non ci sta ascoltando Perché adesso la lancia all'altro campo È troppo concentrata No è successo niente Ma qualcuno C'è Vitti C'è l'interno di liste Nooo C'è l'altro C'è l'altro C'è l'altro C'è l'altro E andrea Erika così È vincere È vincere Sì Sì Grazie 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 Io con tre turni a vuoto Terzo posto Io con sette turni a vuoto Ultimo Quattordici tiri a vuoto su 22 Dai poteva andare peggio Se continui di quello da un punto Poteva essere un punteggio colpistico Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Diciotto mila like Prossimo episodio Con un audio migliore speriamo Con un audio migliore Telecamere migliori Si spera Organizzati meglio Ciao raga